Talvolta capita di non poter utilizzare uno spazio come vorremmo a causa degli sguardi indiscreti dei nostri vicini. Succede spesso sui balconi cittadini perché confinanti o proprio davanti al nostro. Se il balcone è grande possiamo rimediare facilmente con delle grosse fioriere, dei tralicci e dei rampicanti. Ma quando il balcone è stretto, come nella maggior parte dei casi, come possiamo fare? Bama ha trovato una soluzione tanto semplice quanto efficace. Si chiama rondine privacy. Un vaso che abbina capacità, riserva d'acqua, facilità di installazione a una piccola spalliera che può anche fungere da supporto per i rampicanti. Rondine privacy può essere appeso a qualsiasi muretto o ringhiera. Un sistema di fissaggio semplice ma sicuro permette di regolare l'aggancio da un minimo di 3 cm o massimo di 11 cm, senza far uso di attrezzi e in pochi minuti. Una regolazione alla base consente al vaso di restare diritto qualunque sia la configurazione dell'aringhiera o del muretto a cui viene agganciato. Rondine privacy mette a disposizione, scegliendo tra due colori il bianco o il grigio antracite, ben 60 cm di lunghezza e 20 di larghezza e permette di coltivare qualsiasi pianta annuale, come petunie e campanelle rampicanti, ma anche specie più esigenti come la plumbago, la dipladene e i gerani. La riserva d'acqua di cui è dotata assicura la giusta umidità del terreno evitando di irrigare quotidianamente e con il miglior beneficio per le piante. La spagliera che si aggancia direttamente al vaso ha un piacevole disegno edera e può essere usato come semplice decorazione ma anche come supporto su cui far aderire delle piccole rampicanti. Anche il vaso Rondine privacy, come tutti i prodotti di Bama, utilizza resine completamente riciclabili nel pieno rispetto dell'ambiente e godono di un trattamento anti UV che ne impedisce la decolorazione anche dopo molti anni. E non ultimo, è 100% made in Italy. Grazie a tutti!